Marius, assegno anche nella trasferta di Verona portando a 5 il bottino dei gol tra Coppa e Campionato ai quali si aggiungono anche i due assist come valuti il tuo percorso fin qui? Sì, la strada è giusta però secondo me dobbiamo valutare le prestazioni soprattutto della squadra è questa che è la cosa più importante noi come reparto offensivo stiamo facendo abbastanza bene però dobbiamo essere consapevoli che c'è sempre da migliorare se possiamo magari fare meglio nella fase difensiva per prendere meno gol oppure fare anche più gol davanti quindi possiamo essere contenti ma non dobbiamo essere superficiali dobbiamo continuare a lavorare perché è veramente lunga adesso soprattutto a dicembre abbiamo tante partite sarà molto importante tenersi pronto sempre e non molare mai Tu personalmente sei soddisfatto del tuo avvio di stagione? Potevo fare ovviamente qualche gol in più quindi devo guardare anche questo perché è vero che ho fatto 5 gol però mi sono mangiato anche circa 2 però va bene questo fa parte del gioco tutti tutti sbagliamo però come dico bisogna crescere perché anche quello che stai sbagliando a volte ti fa crescere noi dobbiamo come ho detto prima non dobbiamo essere superficiali perché dobbiamo guardare sempre cosa si può migliorare 6 risultati utili di fila con 12 punti nelle ultime 4 gare si può dire che la squadra ha intrapreso il percorso giusto? Sì possiamo dire così però io non voglio essere troppo ottimista perché so quanto è lungo in questo campionato e so quanto è pericoloso potrebbe essere un attimo di molare un po' quindi dobbiamo essere sempre pronti come ho detto prima adesso soprattutto questo periodo dicembre stiamo preparando per tante partite in corto tempo e dobbiamo essere pronti quindi sicuramente la strada è giusta però dobbiamo dimenticare quello che è già successo e continuare a vincere le partite La tua esultanza la conosciamo la mano sull'occhio aperta però esulti sempre con grande carica ti abbiamo sentito farlo quando hai segnato con l'Entella e hai concesso il bis con il Chielo Verona quell'urlo esprime tutta la tua voglia di renderti utile alla squadra Sì, sappiamo tutti che oltre a lavorare per la squadra per un attaccante perché quello che sto cercando di fare è per un attaccante importante fare gol perché nel bambino quando giocavo già in cortile per me tutto il senso di giocare calcio era quando la rete si muoveva quindi questa è un'emozione unica e va bene, questa è mia risultanza perché quando faccio gol come hai detto prima è un'emozione fantastica e speriamo di fare tanti quest'anno Se posso permettermi una curiosità ha un significato particolare il gesto che fai sull'occhio se lo puoi dire Sì, no, mio fratello ha inventato questa cosa e anche lui giocando in serie di polacca sta facendo questo una volta quando ha cominciato a fare questo ho detto dai prossima partita quando faccio gol esulto così e poi è rimasto così perché tutti erano curiosi tutti mi hanno chiesto cosa significa è rimasto così un pensiero per tutti che mi stanno vicini Come si chiama tuo fratello? Krzysztof E con chi gioca la squadra? Adesso rientra dopo infortunio perché si è rotto il crociato però giocava nella squadra che si chiama Unias Fagens La concorrenza in attacco nel reparto offensivo vi motiva a fare meglio? Che rapporto c'è tra di voi? Tra voi attaccanti? Soprattutto deve essere un rapporto per fare bene perché sappiamo tutti che tutti possiamo aiutarci quelli che stanno giocando quelli che stanno entrando il rapporto deve essere quello sano perché solo questa strada può aiutarci a fare meglio perché sappiamo tutti che grandi giocatori si nascono nelle grandi squadre perché quando la squadra fa bene anche singoli giocatori stanno facendo bene quindi noi dobbiamo guardare il bene della squadra e dopo le nostre cose Lo abbiamo visto e si vede ad occhio nudo c'è grande feeling con coda è stato quasi immediato qual è il vostro segreto? Il segreto è lavorare bene perché io per risolvere i problemi sul campo con medicina conosco solo una è un lavoro è un sacrificio per la squadra perché noi dobbiamo fare il nostro e ognuno ce l'ha il suo ruolo in campo quindi è vero che dall'inizio con Marco Mancosu e con Massimo ci stiamo trovando bene però non dobbiamo dimenticare Filippo e anche Stefano perché anche loro sono dentro loro ci stanno aiutando ogni giorno in allenamento quindi siamo tutti siamo tutti una squadra e dobbiamo dobbiamo ricordare anche questi che stanno giocando magari un po' di meno in questo momento Quali sono i compiti che Mr. Corini ti affida in attacco? Cosa ti chiede di fare? Giocando con le due punte come me e Massimo dobbiamo fare soprattutto movimenti contrari perché non trovarsi sempre in stesso posto in stesso momento in due giocatori quindi occupare bene i spazi allungare la squadra e dopo magari in momento giusto trovarsi fra le linee e soprattutto in fase fase finale attaccare bene primo e secondo pallo occupare bene aria questo è importante Che idea ti sei fatto di questo campionato di Serie B dove le prime otto squadre al momento sono racchiuse in sei punti con dei recuperi ancora da giocare Questo secondo me è un campionato dove conta molto la mentalità perché non è un segreto che noi abbiamo tanta qualità come la squadra però qua adesso può contare tanto la mentalità perché se tu hai mentalità vincente puoi allungare la classifica se noi ci accontentiamo adesso di fare sei risultati utili consecutivi non andiamo da nessuna parte quindi noi dobbiamo essere come ho detto prima concentrati e consapevoli che obiettivi abbiamo facendo così possiamo fare bene come ho detto prima qua non bisogna molare contro nessuna squadra perché qua ti può far male qualsiasi squadra in questo campionato è un po' diverso dalla Serie A quindi niente dobbiamo lavorare tutti i giorni e veramente dimenticare già queste sei partite che abbiamo fatto perché sabato ci aspetta una partita tosta che vogliamo portare a casa In presentazione hai detto che la convocazione nazionale dipende anche dalle tue prestazioni con il Lecce è ancora una tua ambizione rivestire la maglia della Polonia ci speri questo è il sogno sempre il sogno più grande per un giocatore vestire la maglia della propria nazionale della propria nazionale quindi rimane sempre il mio sogno però la strada per arrivare nella nazionale è lunga prima dobbiamo devo fare buone prestazioni soprattutto e fare fare i numeri per arrivare nazionale però nella mia testa non ce l'ho convocazione della nazionale sinceramente perché primo che ho fatto al momento va bene siamo all'inizio campionato ho fatto 5 gol però con 5 gol in serie B non posso permettermi di chiedere convocazione della nazionale quindi anche perché concorrenza è abbastanza abbastanza importante quindi niente io sto pensando soprattutto di fare bene con la maglia del Lecce e dopo cosa succederà vediamo qua bisogna fare bene con il Lecce bisogna guardare i nostri obiettivi e tutto poi viene da solo se dovesse venire grazie a tutti